Riflettori puntati sull'olio d'oliva. L'oro di Puglia infatti, se da un lato è al centro delle attenzioni delle forze dell'ordine che nell'ambito della costante attività di prevenzione degli illeciti, nei giorni scorsi hanno sequestrato un'ingente quantità di prodotto non tracciabile e mal conservato, dall'altro è protagonista di corsi di formazione promossi da amministrazioni locali e associazioni che hanno come obiettivo quello di farne conoscere caratteristiche e proprietà nutraceutiche. A San Pancrazio Salentino, Sala Agremita, in occasione di un incontro organizzato dal Comune in collaborazione con l'Associazione Macchia Salva, una lezione con nozioni teoriche e degustazione tenuta dal perito agrario Antonio Mancino. Saper leggere un'etichetta ti dà un indirizzo per una sala e corretta alimentazione. Come si fa a capire quando un olio è buono? Ecco, è una regola molto semplice, tutti quegli oli che hanno quell'odore di frutta è amaro, è piccante, è già un indirizzo di buona qualità. L'olio è importante perché è comunque un alimento salubre per la nostra alimentazione mediterranea, però bisogna stare attenti alle frodi perché in questo mondo è pieno di persone che frodano il consumatore. Allora, c'è un indirizzo.